Le provinciali a Chieti tornano oggi a votare gli amministratori dei 16 comuni che sabato scorso erano andati alle urne con alcune schede sbagliate e il pasticcio dei colori confusi. A nulla è valsa la diffida del centrodestra per fermare la nuova chiamata alle urne. La provincia, amministrata dal vicepresidente Arturo Scopino, va avanti per la sua strada. In netto vantaggio il sindaco di Vasto Menna, candidato alla presidenza della centrosinistra, nei confronti di Filippo Paolini, candidato del centrodestra. Si vota oggi fino alle 20, di seguito inizierà lo spoglio. Il vicepresidente, che in questo momento svolge le funzioni di presidente, visto che l'uscente Mario Pupillo, non essendo più sindaco, ha dovuto lasciare la carica, ribadisce piena fiducia all'ufficio elettorale provinciale e ai provvedimenti messi in atto dal segretario generale della provincia Franca Colella per addivenire addetto con sollecitudine alla proclamazione del presidente della provincia. Organi indispensabili per dare piena attività alla provincia, che altrimenti rischierebbe la paralisi amministrativa in un momento storico particolarmente complesso. Intanto il centrodestra va all'attacco. Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione a firma dell'onorevole Emanuele Prisco per chiedere di fare chiarezza sull'errore che ha alterato il risultato della consultazione, che in considerazione del voto ponderato incide, dice, per più di un terzo sul totale complessivo dei voti. Con l'interrogazione si chiede al ministro di assumere urgenti provvedimenti al fine di salvaguardare la regolarità e la correttezza del voto, in particolare disponendo alla ripetizione di tutte le consultazioni e non solo di quelle in cui si è verificato l'errore. La Lega ha presentato un ricorso d'urgenza al TAR per sospendere o annullare il decreto presidenziale che per oggi, 23 dicembre, ha indetto elezioni limitatamente ai 16 comuni per i quali si è verificato l'errore. In una nota congiunta del segretario regionale d'Eramo e del coordinatore della provincia di Chichieti, Leonzio, si sottolinea che in seguito a un errore sulla consegna delle schede elettorali ai partecipanti al voto non è stato possibile concludere l'operazione di voto. Tuttora non è compilato il verbale di chiusura. Quest'errore sommato al decreto abnorme del presidente Arturo Scopino, che ha fissato una nuova data per colmare l'errore, inficiano la validità dell'appuntamento elettorale, poiché non si garantiscono alcuni elementi imprescindibili dell'azione di voto. La Lega aveva chiesto che il TAR fissi una nuova data per celebrare, dice, in maniera completa, un fondamentale appuntamento elettorale. Tant'è che Scopino va avanti sulla sua strada ed entro stasera al massimo domani si saprà il risultato delle elezioni provinciali di Chichieti salvo sorprese.